Nicola Zaleschi verticalizza per Calafiori che ha la possibilità di andare al cross, lo mette dentro, poi il controllo di Carles Perez che riesce a trovare una conclusione precisa, gli arriva il gol dell'1-0, Villar poi allarga ancora per Borca Maioral che va a mettere il cross, il colpo di testa, ed arriva il gol da parte di Mancini per il 2-0. Zaleschi, prova ad accelerare, ancora Zaleschi, l'appoggio per Mkhitaryan che entra nel rigore, Mkhitaryan l'appoggio, questa volta arriva il gol di Borca Maioral per il 3-0. Seguiamo però ancora la Roma con il tocco largo per Carles Perez che si ferma, vuole ancora un compagno in appoggio e trova la conclusione vincente Riccardo Calafiori per il gol del 4-0. Il tentativo di cross, palla per Borca Maioral, e qui non ci può fare veramente nulla il portiere perché il pallone prende il palo e si infila alla destra di Santi. Qui l'anticipo da parte ancora di Zaleschi, palla per Borca Maioral, la conclusione arriva il gol del 6-0 al decimo minuto, Borca Maioral, Reynolds 1-2 con Zagnolo, Reynolds però ad entrare l'americano, finisce giù calcio di rigore. Dal dischetto Nicolò Zagnolo con il sinistro, parte Zagnolo e ritorna il gol, anche Nicolò Zagnolo, e qui c'è l'applauso anche di tutta la tribuna presidenziale. Diavara, Reynolds, Diavara, ancora scambio, sempre Diavara all'interno del rigore, lo scarico per Zaleschi che si mette in proprio e trova il gol dell'8-0. L'inserimento di Borca Maioral, sempre Zagnolo che combatte anche da terra, poi Borca Maioral, Zagnolo, continua ad insistere, la conclusione di Diavara, arriva il gol del 9-0. Arriva Diavara. Borca Maioral, il pallone ancora tre pede lo spagnolo che incroce, trova il gol del 10-0 e trova anche il suo quarto gol personale in questa partita. Borca Maioral incroce il diagonale.